Eccolo qua Francesco Di Puoli, eccolo qua Francesco Di Puoli, tipata Runners, davvero un incremento di ritmo per quanto riguarda la seconda parte del percorso, 33-18, tempo ufficioso, eccolo qua Marco Petrano, il club Napoli, eccolo qua in seconda posizione, 15 secondi di distacco tra i due atleti, quindi Francesco Di Puoli e Marco Petrano, primi due atleti all'arrivo, ed eccolo qua il terzo atleta classificato, che sta per manifestare il tappeto rosso di arrivo, altro giovanissimo atleta, grande posizione per Domenico Palace, è completato in polio, e ancora per la quarta posizione, ricordiamo la sua caracolistica al posto di Capo di Monte, taglia il traquarto, Salvatore, Forino e Marco, Marco Di Martino, giovanissimo atleta della categoria Juniors, giusto Marco? Marco Di Martino è della categoria Juniors, dico bene, non sbaglio. Ancora, ammigli, il profetto Marco ha allenato da Marco Castore, mentre si seguono gli arrivi con Marco Di Martino, Rappena Pultano, Rappena Martiello, siamo a 34-45, quindi sui 3-28, dai forza ragazzi, dai che è finita, forza! L'amigli da parte, l'accesso del prete, degli amici di Pratta Maggiore, Francesco Di Nicola, Francesco Feola, grande Francesco, complimenti ragazzi, stiamo sui 3-30 in questo momento, 35 minuti da via, di Catore,iyi portano, video, t сидi lato come 12, gimini, sei da casa quella della organizzazione, della Pro Lab, sapessi fare più dimenti, secoli, ragazzi, 35-25, dai Remo! dai Remo tutta la mano toneta Remo Morelli di Panalangers grande Antonio Polina complimenti a Antonio grandissimo forza Giovanni Giovanni Franciere brava Antonio complimenti a te un po' dare grande Antonio compagno di squadra e ancora arrivi davvero una splendida visuale sul rettini giornale nel secondo tomeo di Trasaluce ancora round up per la trena che sta per tagliare il traguardo in giurata di vuocarro in fra ore dai dai ancora le furie rosse di fratta maggiore e poi va siamo sui 36-30 ok di Giuseppe dai Luigi Napoli run forza ateriva aversa forza ragazzi dai Giovanni dai al calcio forza forza pastore grandissimo Napoli run dai dai ci avviciniamo qui 37 gruppi di lana on to run grande ragazzi Vincenzo del cuore e ancora da scappati tagliare il quarto salvaglione civico e ancora alta con erica aversa con Paolo Giocondi grandissimo 37 12 grandi ragazzi grandi complimenti a voi Raffaele e Iorio grandi forza e ancora Martina Caevano arrivò colore il 17 dai salvaglione forza San Antonio Vincenzo Giovanni Lione Raffaele Tramontano Salvatore Vanna Antonio Santella e ancora i colori del grande catena qui a Casaluce con un amico di Massimo Catena forza Bufagir Cicciano Maragol anche loro oggi protagonisti qui a Casaluce Silvio Denù per presentare il suo tip e ancora Tiffa da Tuckers con l'arrivo di Piero De Cabrio Luigi Trassia Gerardo De Mise Ipos Campi di Freire storica societana Cotevana Giuseppe Mozza Grandi Power Casagiove complimenti a Dicenzo insieme e ancora codistica Marcianise con l'arrivo di Ferdinando Fabozzi Grandi ragazzi forza forza Italo Marcomenare con Ferdinando Di Giaccio Cesare di Ferdinando Cantillo Grandi complimenti a voi ragazzi dai manca moltissimo per 39 minuti siamo a 38 e cinquanta grande forza prima torno altro quarto eccola qua grande Martina 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 ammottito grande 39 0 30 vicioso forza ragazzi dai forza Raffaele Francesco un'esima Raffaele ancora un turno Antonio Giaro grandi ragazzi forza è l'info international 6 punti di service per chi muore a conto e ragazzi che finita vai vai unici forza grande grande Gigi ancora sprint sul tappeto finale arrivo di Patrizio Manico Giuseppe Lavi Antonio Partellino Domenico Stella grandi ragazzi Antonio Monaco è la stabile nella seconda posizione forza ragazzi complimenti a voi dai dai che è finita Luigi Ricci Ernesto Pitocchi viaggio guida vai ragazzi forza che è finita dai siamo sui 40 minuti in cara 4 km perché a presto stanno tagliando il traguardo in questo momento forza grandi ragazzi dai che è forza e ancora Nicola Zitiello Giovanni Di Somma di E Esposito Domenico Abbotitola grandi ragazzi ecco in qua il frio Razfab complimenti a voi di Fata Rattes ricordiamo tutti gli atleti di istituire il ciclo giornaliero Anna Maria Nicolasio atletica Marcia Anise ed eccolo qua buonissima domanda con l'esco scendendo al traguardo che ci aspetta il 17 febbraio ancora tanti gli amici qui in piazza Statuto con Francesco in pico Giuseppe tedesco Antonio Spassi con l'occhio che occorre tantissimi forza ragazzi per finire 4 9 0 6 la media degli atleti che stanno facendo il rapporto in questo momento la gara maschile che è stata vinta da Francesco Di Pugli per quanto riguarda la gara per finire la gara mattina allo tiro dai forza ragazzi 20 da mattinata di sport che ha Casaluce il secondo con me con città di Casaluce oltre 500 gli atleti che hanno preso il via da circa 42 minuti qui in piazza Statuto forza ragazzi dai è finita forza sciolta dai ragazzi Forza ragazzi, dai ultimi metri per la vittura, alla vostra gara siamo a 42.30, dai che ci siamo, forza! Forza ragazzi, l'arca cattolica a destra, alla vostra scuola, forza! Ci sono anche gli amici della Fugista Cassia Portana, che è Anna, grande amore, forza! Grandissima Anna! Dai ragazzi che finita, ultimi metri! Arriva anche lì, Agostino d'Altenio, dai forza! Salvatore Cinetto, grandi ragazzi, Luigi Monticelli, Gennaro Maldone, Paolo Verde, siamo a 43 minuti dalla partenza, grande Pico, forza! Antonio Pionettino, salvatore grande, Pico d'amore, 4 e 18, la media che la Pionettino sta sbagliando il rapporto, forza! Dai ragazzi, vai ragazzi, forza! E ancora, 30 notte del Pro Lab, forza! Napoli, grande, via, ragazzi, via Pico! Polistica Normana, forza ragazzi! Dai, Francesco Di Cianza con Francesco Porto, Luciano Iavallone, Salvatore, Rispoli, Luigi Montiero, forza Teresa, grandissima Teresa Galano! Dai ragazzi, sotto i 44 minuti di comissima, di qualche secondo? All'incanto, forza! Naturalmente, l'ufficialità dei tecnici sarà arrivata poi da una scuola di Sano, per una passività finale. Ok, forza, regga è finita! Grandissimo, con la maglietta della Finca, la zona di Venezia, se è un gioco russo, a tagliare di una guarda anche Clemente Buscio, di una guarda difficile, portiamoli in consigliare del cinto piano. Arrivo lì! Enzo, Enzo Mura! Come è il senso? Come è il ragazzi? Siamo tagliando i tecnici, non ho fatto? E vogliamo agli atleti di consegnare il cinto piano per un giocaniero. Lo dimenticare, ragazzi, mentre si sostenono gli attivi, iniziamo a 45 minuti dalla partenza. Grande Giovanni, 4.30! Vede che gli atleti si stanno tagliando il traquatto con Massimo Lecce. Grandissimi ragazzi, Luigi Canamante, Vicenzo Celeste, Nicola Perrotta. Complimenti a voi, ragazzi! Dai, dai, che ci siamo! Forza! Ancora tantissimi! Via, Ida! Dai, che è finita! Forza, Ida! Dai, mano, l'andress! Dai! Angelo Angerino al provato con l'idea Sabonino, Stefano Capuano! Ancora tantissimi! Ancora tantissimi! Forza, ragazzi! 46 minuti! Dai, che ci siamo! Francesco Ciparelli, Atenero Carazzo, Ignazio Ciccoletta! Forza! Basilio Di Santo, Via! Con il Basilio Puoti! Ancora, Power, Casa Giove, Polizia Dazzurra! Via, ragazzi! Grandissimi! Forza! Ci siamo! Secondo tropeo, Città della Casa Luce! Dai, dai! L'ospettacolo l'unico che deve arrivare sul 20-minio finale in Piazza Stavuco! Forza, ragazzi! Revo Mattiello! Dai, che ci siamo! Massimiliano Poterico con Antonio Necroni! Via! Francesco Manzo, Michele Di Picco, Michelangelo Peluso! Dai, 147 minuti! Forza! Dai, dai! Dai! L'ospettacolo finale con l'arrivo di Armando della Porta e Antonio Sacco! Via, ragazzi! Forza! Un'ultima in 5 minuti! Dai! Giovanni Pasco, Alessandro Donondo! E ancora, Gli attenti! Evento Run Lab ovviamente, ragazzi! Carlo Navale, Salvatore, Oros! Dai, dai! Vieni, ragazzi! Forza! Avo le mani! Con l'ultima in 4-mane! E ancora, Val Lab! Con il vittorio, con il passivo, Filippo D'Alessandro! Ratta Maggiore c'è! Dai, dai! Forza! C'è vicino per i 48 minuti! Luigi Cancello, Luigi Appusso, Michele Marsano, grazie a voi! dei contenenti attivisti! Azzurra! Forza! Le vittorio, la città di Gliattini, che è tutto sotto i 48 minuti! Ricora, Coronella, Ciro, Cicere! E ancora, Alamo! Un arrivo! Di Rappelicine! Forza, Paolo! Paolo Giovanni! Di Rappelicino, la città di Quarto! Giro! Ecco, la città di Quarto! Velocissima! per rappresentare i città di Lusse, Antonella, Ciccadillo! E ancora, Nava, Bull Run! Siete tantissimi ragazzi! Complimenti a voi! Dai, dai! Ultimele, 48 minuti! E ancora, Ciccola, Samaritana! E a tre, Ciccola, Caimano! Dai, ultimele, e ancora, la città di Lippos, Caudi, Cresi, ora, Tagliarini! 48! e cinquanta! Siamo a tutti gli appelli del Consenario del Cinco di Anzo quello giornilero che stava rapido di un certo di marzo perché siamo a 89 e 10! Io ne fero io dell'appello da Caimano complimenti ragazzi! Con il Markei di Ciccola in questo terzetto e ancora gli appelli che non potrebbero dare la seconda ora la mia ufficienza è nata! Ci stanno dai! Forza! Complimenti! Grandi! e ancora lo fanno la terza con la primo della trena Patrizia Quastale e ci siamo sotto i cinquanta minuti dai! Forza! Pochissimi secondi! Ci siamo cinquanta minuti con l'arrivo di Nicola Costume e Angelo Castaldo Forza! E! Vai! Che finita! Forza! E già il Markei cava dei cinque gli atleti che stanno arrivando in questo momento Forza ragazzi! Vai! 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 Forza! E' il senso! E' il senso! E' il senso! E' il senso è l'amico un po' di stevano molto comana dai! Forza Luigi! Luigi! E' Anna! Grande! Grazie per la vostra manifestazione ragazzi e il compie media mi sta stretta molta manifestazione dai che è il portacuardo Anastasia visit con il salvatore di ora di Lorenzo Pizzetti a te guardate un sorriso bravissima Margenina Daniele 51 35 Giuseppe Mettra Forza! E' il grandissimi Francesca Pinole in centro e calcio arriva alle aree nella nonna di non manco che si è messo e la sua stasperlo e vi asciò un palazzo e complimenti forza ragazzi vai che spegniamo complimenti grazie E' finita, forza! E' finita, forza! E' finita, forza! Con l'arrivo di Bruno Peccinella e ancora a tenita, a fragola e potistica azzurra! Forza Giuseppe Aiazzetta! 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 E allora, regala, non scelta, con il taglio del mitico Michele Suppa. Dai dai, forza che finita, complimenti a voi, Maglio Di Pella, grandi ragazzi, complimenti, annunciati a Enrico, Bernantino Piatta, Angelo Mella, Claudio Conte, tantissimi di Andresi che stanno per battagliare il salto politico, a posto di Napoli Monde, complimenti a voi, ancora, il territorio dell'Atleta, a tra loro, dai dai, qui ci siamo ragazzi, 5,45 e 30, forza! Dai dai, Bernanto Portino che ha tagliato il traguardo, allora, il Gesso, D'Ambrosio, Rosario, Sadio, forza! Dai, Berlina, forza! Forza, G.V., forza! Bellissimo! Accompagnato da G.V.A. in una squadra, e hai 56 minuti! E allora, Rob, al salto di Casa Luce, con la sua verrà e con la buona, la presa in swim, a scabalata, 56 e 40! Allora, 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 allora. Grazie a tutti. 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 Forza. Grazie a tutti. 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 . . . . . . . .